Inspiro, quando espiro sento il mio respiro, collego il polmone al intestino grasso, rimando in posizione per sette lunghi respiri e poi appoggiando il panno della mano a terra, poggio le ginocchia, inspiro, vizza pancreas, posso portare il panno della mano indietro, ruotare la testa o scivolare sull'abbrazzo o scivolare completamente a terra, inspira, questa è la posizione più comoda inizialmente, sette lunghi respiri e colleghiamo la vizza pancreas, poi prendiamo le gambe davanti, cuore e intestino temwe, andiamo a prendere la punta dei piedi, inspiriamo, chiudiamo il mento per scendere, per rilassare la colonna vertebrale e colleghiamo il cuore e intestino, sette lunghi respiri, andiamo ad adottare le gambe, allunghiamo le braccia verso lato, mettiamo la punta dei piedi, ispiriamo, re neve shika e ci allunghiamo fino a dove la nostra colonna vertebrale si distende, senza esagerare, se possiamo sulla punta dei piedi, altrimenti va bene anche alla caviglia o al ginocchio, espirando per sette lunghi respiri, quando ritorniamo, chiudiamo, incrociamo il piede sinistro sulla tiglia destra, incrociamo le mani alle ginocchia, per il cardio triplice riscaldatore, chiudiamo il mento, facciamo 5 respiri da una parte, inspiriamo, sciogliamo la posizione, scavacchiamo con la destra la tiglia sinistra, cambiamo l'incrocio delle mani, chiudiamo il mento, facciamo ancora 5 respiri profondi per la posizione, mantenendo l'appoggio della gamba alla coscia, allunghiamo la gamba sopra, portiamo le braccia tese verso l'alto, inspiro, espirando fegato, cistifelle, adottiamo il busto verso il soffitto, andiamo a cercare il punto, facciamo 5 respiri profondi, 5 respiri, inallungo su una gamba, ritorniamo al centro, inspiro, cambiamo la posizione, la ruotiamo dalla quattro opposta, e manteniamo 5 respiri, collegandoci sempre a fegato e cistifelle, inspiro, ritorno, stop.